Si è parlato ancora dei lavori che proseguono in cattedrale, ma soprattutto di una importante scoperta. Di che si tratta e qual è il valore di quello che è stato realizzato? La cattedrale ci sta regalando la modernità nella scoperta dell'antico, perché noi, di quello che è la parte storica sulla storia della città e della cattedrale, abbiamo alcune indicazioni, ma da un punto di vista grafico e documentale molto poco, perché nel Settecento, quando è stato rifatto poi il Tempio, così come l'abbiamo sempre visto, noi avevamo una piccola mappa, un piccolo disegno che faceva vedere com'era e come era diventato. Di certo andando a spogliare i pilastri dell'intonaco settecentesco, per riuscire a raggiungere la struttura che ingloba al suo interno le colonne medievali, la scoperta di poter ritrovare intatti alcuni fregi, alcuni leoni antropomorfi, di trovare intatto tutta quella che è la parte della colonna che sorregge ancora il peso della cattedrale, non ce l'aspettavamo. E quindi quando, sentendo dal restauratore, è stato tolto quel mattone che ha riscoperto il volto di un leone, perfettamente intatto, si vedono ancora i denti e la lingua, si notano le rughe e si vede l'iride di una pietra differente rispetto al resto del corpo e si nota che è perfettamente conservato, insomma l'emozione è stata tanta e credo che sarà anche l'occasione per uno studio approfondito sul nostro edificio, sulla storia che l'ha portata ad essere quella che noi abbiamo oggi e mi auguro anche la possibilità di riuscire a mantenerlo in vista, almeno quelli più ben conservati, per poter mantenere un passaggio della storia anche all'interno del nostro edificio. È una scoperta un po' epocale per Ferrara, ma anche dal punto di vista storico-artistico e architettonico della nostra cattedrale.